Giacomo Maurelli che è presidente di Maurelli Group, perché voi puntate moltissimo sul passaggio generazionale, lavorate moltissimo sulla formazione e però con il passaggio generazionale si è anche creato un nuovo ramo d'azienda. Sì, buonasera a tutti e ringrazio sempre Alice per questa opportunità che ogni anno in questa bella manifestazione possiamo discutere temi importanti. Io rappresento il gruppo che è il leader in Italia nel settore post vendita, quindi avendo una cinquantina di punti vendita e diversi service in Italia. Chiaramente risentiamo un po' nel nostro settore delle scelte che fanno i costruttori o chi trasporta su gomma. Per quanto concerne la nostra posizione, è una posizione in cui investiamo moltissimo sulla rigenerazione dei nuovi prodotti per dare più vita ai prodotti, quindi diminuendo un po' quelle che sono le materie prime o anche quella che possono essere quello che viene dopo poi per l'ismaltimento dei prodotti. Per quanto riguarda il gruppo, investiamo tantissime informazioni, come diceva lei, sui giovani. non solo nel settore, noi siamo leader nel settore dei trasporti, ma anche altri settori come l'ecologia o come trasporti su gomma, quindi autobus urbani, dove in quel caso la crescita sull'elettrico e sull'ecologico è molto più rapido, dovuto proprio all'istituzione che grazie ai fondi del PNRR o grazie a certe posizioni che le azioni fanno sta crescendo molto di più. Sul cambio generale ci credo molto, ho due figli, insomma mia figlia ha cominciato, insomma una nuova nel settore dell'ecologia, abbiamo creato una società che si chiama Ecology Parts, anche mio figlio è in azienda e quindi è un passaggio generazionale, sempre non facile tra padre e figli, ma insomma io credo che posso essere contento di avere due figli che continuano l'attività e che ci aiutano a crescere insomma in futuro. Grazie molto. Grazie, grazie mille. Grazie.